La terra sta tremando, bambina. Cos'è accaduto? Sono arrivati i guerrieri. Pocahontas! John! Ascoltami bene. I miei uomini progettono di attaccare il tuo popolo. Devi avvertire tutti subito. Forse non è troppo tardi per impedirlo. Devi venire con me a parlare con mio padre. Pocahontas, purtroppo parlare non servirà a niente. Ho provato a farlo con i miei uomini, ma tutto di questa terra li spaventano. Le increspature. Che cos'hanno? Cosi piccole all'inizio. Poi guardate come si ingrandiscono. Ma qualcuno deve pure dare il via. Non ci ascolteranno mai. Giovanotto, qualche volta la via giusta non è la più facile da seguire. Ma non capisci? Solo quando si porrà fine al combattimento potrete stare insieme. E va bene. Parliamo con tuo padre. E va bene. E va bene. Come si faceti? E va bene. Consumer photographici. Sono estet resieroni. Per Christmas. E va bene. E espa. Mio... Cocoon, no! Cocoon! No! Cocoon! Lascialo stare! No! No! Cucco, fermo! Tutti e due gli occhi aperti. Thomas! Lo hai ucciso! Pensavo che... Stai lontano da lui! Poca honte, sei inutile! Stava solo... L'ho ucciso! Thomas, vattene via! Vattene via! Oh, Cucco! Oh, c'è un po' di là! Oh, c'è un po' di là! Vattene via! Vattene via! Vattene via! Vattene via! Grazie.